Ciao a tutti, volevo mostrarvi questo errore che mi è capitato a Skyrim, che mi impedisce di andare avanti nella storia, dopo la bellezza di 60 ore di gioco. Adesso ve lo mostro. Sono nella gilla dei compagni, sono venuto qua per ottenere lezioni di spalla a due mani. Dopo ciò ho semplicemente esplorato nuovamente il luogo, andare a ricerche di oggetti, cose varie. E niente, proviamo ad uscire, ad andare in città, come tutti fanno. Guardiamo. C'è il classico caricamento. Ho tolto gli autosalvataggi nella speranza che l'errore andasse via, però adesso lo vedrete. Ecco, questo è l'errore che mi è capitato a Skyrim, per la quale non riesco ad andare più avanti nel gioco. Ho buttato via 60 ore di gioco e mi ritrovo bloccato. Se vado nel menu funziona tutto, vado su abilità. Però se provo ad andare su mappa, come ho pensato, faccio mappa e provo a fare un viaggio rapido, il gioco si blocca. Anche la mia console, in questo caso un Xbox, si blocca completamente. Non c'è soluzione che spegnere il gioco, dimatterlo nella sua confezione originale, bellissimo, e basta. E non giocarci più. 60 ore di gioco buttate via. Che bel gioco. 62 ore di gioco. 62 ore di gioco. 63 ore di gioco. 64 ore di gioco. 64 ore di gioco. Grazie.